direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di si vince tutto super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione di si vince tutto il concorso speciale di super enalotto come sempre si vince tutto super enalotto ha un suo monte premi distinto da quello di super enalotto che viene interamente distribuito in un'unica serata quella di estrazione fra tutti i vincitori per partecipare si scelgono 12 numeri e se ne devono indovinare 6 ma si vince indovinando anche solo due numeri della combinazione estratta ad oggi si vince tutto ha già distribuito oltre 105 milioni 400 mila euro e solo nell'ultimo concorso sono stati assegnati oltre 140 mila euro scopriamo insieme quale cifra ha raggiunto il monte premi oggi mercoledì 17 aprile 145 mila 509 euro le operazioni di estrazione sono già iniziate le 90 sfere numerate per la sestina vincente sono state caricate e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via l'estrazione di si vince tutto super enalotto le sfere sono scese nell'urla elettronica inizia l'ormescolamento automatico andiamo subito a scoprire il primo numero della sestina di si vince tutto super enalotto di oggi il primo numero estratto è il numero 40 il secondo numero sta arrivando di qui in poi si comincia a vincere il secondo numero estratto è il numero 24 ora siamo al terzo numero eccolo il terzo numero estratto è il numero 21 via con il quarto il quarto numero estratto è il numero 35 è giunto il momento del quinto numero il penultimo il quinto numero estratto è il numero 76 con l'ultimo numero la sestina vincente di questa estrazione speciale sarà completa il sesto numero estratto è il numero 42 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione 40 24 21 35 76 42 controllate bene la vostra ricevuta di gioco perché si vince tutto super enalotto questa sera distribuisce l'intero monte premi che vale ben 145.509 euro ricontrolliamo ora tutti i numeri estratti di si vince tutto super enalotto con la sestina vincente in ordine crescente 21 24 35 40 42 76 l'estrazione di si vince tutto super enalotto di oggi mercoledì 17 aprile è terminata fra pochi minuti scopriremo insieme come verrà distribuito l'intero monte premi a fra poco con si vince tutto super enalotto ben ritrovati poco fa abbiamo seguito l'estrazione dei numeri vincenti di si vince tutto super enalotto di oggi mercoledì 17 aprile che vi ricordo ha messo in palio 340 mila euro il computer ci comunica che sono state assegnate 7584 vincite per un valore di 145 mila 1478 euro il 6 non è stato centrato ma sono stati premiati migliaia di vincitori nessun 6 i 5 sono 3 vincono 1649 euro ciascuno i 4 sono 104 e vincono 114 euro ciascuno i 3 sono 1196 e vincono 44 euro ciascuno i 2 sono 6281 e vincono 12 euro ciascuno vi ringrazio per essere stati con noi si vince tutto super enalotto vi da appuntamento a mercoledì prossimo 24 aprile arrivederci